In economia quando si parla di tigri asiatiche non ci si riferisce ai famosi felini ma a quattro economie dell'estremo oriente che sono esplose in maniera esponenziale negli anni 90 e che in generale negli ultimi 50 anni hanno fatto un balzo enorme passate da essere paesi considerati poveri ad essere paesi all'altezza se non anche con economie migliori rispetto alla nostra parliamo di Corea del Sud, Taiwan, Singapore e Hong Kong tra l'altro io ci sono stato tranne che a Hong Kong mi manca, ci devo andare tigri asiatiche perché sono stati piccoli tranne in realtà la Corea del Sud che sono andati però molto 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 veloci basta pensare appunto alla famosissima Corea del Sud che veramente era considerata uno stato poverissimo al pari dell'attuale adesso Corea del Nord ma che invece nei decenni diventava una superpotenza aziende come Samsung, LG, Hyundai sono tutte coreane per non parlare anche del fenomeno degli ultimissimi anni della cultura pop, del K-pop che hanno reso la Corea ancora più famosa poi c'è Taiwan che è super conosciuta per i semiconduttori e anche per tantissime aziende elettroniche e poi Singapore e Hong Kong che sono importantissime nel settore finanziario sono stato di recente Singapore praticamente una nuova New York a due passi poi dalla confinante Malesia che nonostante sia estremamente più grande ha un'economia simile quindi un PIL pro capita è veramente molto più basso dell'attuale Singapore queste quattro economie hanno visto le classiche dinamiche di uno stato che cresce super velocemente come città che in pochi decenni da zero passano a milioni di abitanti strade che erano una volta sterrate con i riscio adesso sono asfaltate con supercar o treni monorotaglia di ultima generazione che vanno velocissimo quelli che una volta erano terreni principalmente dedicati all'agricoltura adesso sono enormi città o centri industriali specializzati in tecnologia perfetto partiamo dalle origini partiamo dagli anni 60 come abbiamo detto la Corea del Sud era considerata appunto uno stato povero e proveniva anche da dieci anni di crisi aveva un'economia principalmente agricola e la stessa condizione si applicava a Taiwan e al resto delle tigri tutte e quattro le tigri isiatiche da metà degli anni 60 iniziarono a promuovere delle politiche verso l'industrializzazione e la modernizzazione che in poche parole significa cercare di smettere in tutti i modi di essere uno stato solo agricolo ma di investire anche nell'industria e nei nuovi mercati i decisori politici di quel tempo presero spunto dalla Germania e dal Giappone studiando approfonditamente le riforme messe in campo dai paesi più industrializzati e che li hanno resi tali provando a portarle nella regione asiatica in realtà lo stesso discorso in quel periodo si applica anche ad altri stati asiatici come la Thailandia, la Malesia, l'Indonesia che però sono giganteschi e quindi non sono propriamente considerate tigri asiatiche non sono neanche poi cresciute in maniera così esponenziale negli anni a seguire però hanno vissuto cicli e dinamiche molto simili cioè in realtà ogni stato lo sud-est asiatico ha avuto il proprio sviluppo diverso però ovviamente ci sono stati dei pattern che hanno legato tutti questi territori quindi come dicevamo negli anni 60 in Corea, in Malesia e in Thailandia venivano riformati i sistemi agricoli incentivando la proprietà privata e il commercio inizia ad arrivare anche un florido periodo industriale dove nascono società meccaniche, di automobili e di componentistica specialmente in Corea del Sud queste società non nascono con il libero mercato in maniera completamente spontanea ma fanno parte di un vero e proprio programma dello Stato infatti queste grosse società inizialmente sono guidate e sussidiate proprio dallo Stato infatti è proprio nel 1967 che nasce la Hyundai Motor Company l'attuale Hyundai, gigantesca società automobilistica non nasce da zero ma come sviluppo della Hyundai Engineering and Construction Company infatti la strategia del governo coreano a quel tempo fu proprio quella prendere alcune società che già esistevano in Corea alcune famiglie che già operavano in determinati settori chiave e solamente per quelle aziende venivano applicate delle regole extra e venivano aiutate in modo che crescessero il più possibile tant'è che ad oggi la Corea, a differenza dell'Italia, non è una rete di piccole e medie imprese ma è guidata appunto da queste grandi mega aziende che sono nate proprio dagli anni 60 fino ad oggi infatti esiste proprio una parola che si chiama Chable si scrive Chable, lo trovate anche su Wikipedia e questa parola si riferisce proprio a quelle grandi aziende sudcoreane di proprietà di grandi famiglie coreane che storicamente le hanno fondate e di cui sono proprietari che governano praticamente lo Stato parliamo di Hyundai, Samsung, LG, Lotte e tante altre che sono meno famose qua in Occidente che poi in Corea è anche diverso aziende come Samsung hanno tutto, non fanno solo i telefoni ma anche le armi, i palazzi, le macchine, tutto comunque tornando anche alle altre tigri asiatiche un'altra cosa fondamentale che avviene sono le riforme da un punto di vista dell'istruzione questa volta influenzate non dagli stati occidentali ma influenzate dalla Cina che nello stesso periodo ha fatto la stessa cosa investire nell'istruzione è fondamentale per avere delle generazioni future specializzate e in grado di sostenere i cambiamenti del mercato e tornando infatti alla Corea del Sud nel 1987 arriviamo già a un 90% di persone che hanno almeno un livello di istruzione secondaria che è un risultato straordinario considerato che 20 anni prima erano praticamente a zero arrivati quindi tra la fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 inizia un'altra fase fondamentale per la crescita di questi stati cioè l'attrazione di capitali esteri infatti una volta cresciuta e ottenuta una forza lavoro specializzata è molto più facile iniziare ad attrarre capitali esteri per investire nei nuovi settori e nelle nuove imprese facilitando quindi il progresso tecnologico non a caso tutte e quattro tigri asiatiche sono specializzate in tecnologia dopodiché c'è un altro punto chiave fondamentale che ha determinato la ricchezza e la crescita esponenziale di questi stati cioè l'esportazione verso l'estero infatti una volta fondate e fatte crescere grandi società tecnologiche le economie si sono orientate verso l'esportazione verso mercati già sviluppati come gli Stati Uniti e l'Europa in tutto ciò questi stati riescono a indebitarsi molto poco sostenendo la loro crescita con i proventi delle loro industrie e così tra gli anni 80 e la fine degli anni 90 l'economia delle tigri asiatiche cresce di anno in anno a doppia cifra ricapitolando la prima fase è stata quella di passare da un sistema esclusivamente agricolo a uno più industriale favorendo quindi la nascita di fabbriche e un settore secondario incentivando anche la privatizzazione e il libero commercio la seconda fase è stata quella dell'istruzione creando una generazione di personale specializzato in grado di lavorare nel settore tecnologico la terza fase è stata ottenere investimenti esteri per far nascere e fiorire aziende tecnologiche e la quarta fase è stata esportare il più possibile all'estero verso stati già sviluppati come Europa e Stati Uniti confrontiamo in questi anni la crescita delle tigre asiatiche contro quella di stati come l'Italia, della Francia e degli Stati Uniti tra il 1980 e il 1997 il PIL della Corea del Sud è cresciuto in media dell'8,6% annuo quello di Taiwan del 6,4% annuo quello di Singapore dell'8,3% annuo e quello di Hong Kong del 5,2% annuo sempre in media nello stesso periodo l'Italia ha registrato un tasso di crescita media del 2,2% annuo mentre la Francia del 2,4% annuo e gli Stati Uniti del 3,1% annuo ovviamente stiamo parlando di stati che partivano da punti di partenza completamente differenti ma nonostante ciò stiamo comunque parlando di un piccolo miracolo ad oggi per esempio Singapore è uno stato con un PIL pro capite decisamente più alto rispetto all'Italia a fine anni 90 sembra tutto perfetto però la realtà è che dal 97 in poi inizia ad esserci qualche problema tutto inizia dalla crisi in Thailandia in particolare con un problema legato alle valute infatti la maggior parte delle valute del sud-est asiatico del tempo erano legate, in giargo PEGD, al dollaro e mentre questi stati crescevano a dismisura in realtà gli Stati Uniti stavano vivendo un momento economico completamente diverso infatti se negli anni 90 gli Stati Uniti hanno avuto un periodo deflazionistico un po' di depressione nel periodo post-depressione c'è stato invece un moto al contrario inflazionistico che ha fatto perdere di valore al dollaro e cosa succede quando aumenta l'inflazione? lo sappiamo benissimo in questi anni è successo proprio in questi ultimi due anni di nuovo in tutto il mondo le banche centrali aumentano le tasse di interesse rendendo quindi più difficile per uno stato investire all'estero perché gli diventa più conveniente tenere i propri soldi, le proprie valute in casa quando i tassi erano bassi moltissimi fondi americani prendevano soldi in prestito a dei tassi bassi per investirli nei mercati asiatici dove crescevano molto più velocemente una volta invece che i tassi si sono alzati a dismisura questo processo non era più possibile o quantomeno non era più tanto conveniente quanto prima quindi in questa nuova fase i capitali rivulano verso gli Stati Uniti dalle tigre asiatiche apprezzando il dollaro ed essendo però le valute del sud-est asiatico legate al dollaro si apprezzano anch'esse rendendo però molto più difficile per loro esportare perché quando la tua valuta è forte esportare è più difficile in quanto le cose che vende diventano automaticamente più costose in realtà questo problema si abbatte solo in seconda battuta sulle tigre asiatiche ma in prima battuta sulla Thailandia infatti a risentirne maggiormente è il bat tailandese che di punto in bianco apprezzandosi riduce le esportazioni della Thailandia che si vede entrare molti meno soldi entra in crisi e l'economia si paralizza intere società di costruzione rimangono bloccate con opere a metà mezze costruite che rimangono là abbandonate questo crea una reazione a catena il settore bancario vacilla l'economia tailandese peggiora ulteriormente altre imprese chiudono e questo chiaramente incentiva ancora di più gli investitori esteri a continuare a ritirare i propri soldi a quel punto il governo tailandese è costretto a sganciare il bat dal dollaro per evitare che questa cosa continui e questo però ovviamente ha provocato un gigantesco moto inflazionistico svalutando tutto insieme in maniera veloce il bat tailandese e di conseguenza poi anche tutte quante le altre valute del sud-est asiatico anche la valuta indonesiana in un anno perde praticamente l'80% del suo valore il bat tailandese il 41% il won sudcoreano il 35% anche i mercati azionari ne risentono quelli della corea, hong kong e singapore perdono circa in media il 40% e ovviamente crolla anche il pil pensate che il pil dell'indonesia in solamente un anno è crollato del 43% quello della tailandia il 21% e quello della malaysia il 19% la corea del sud il 18.5% e le filippine il 12% insomma tutti i paesi asiatici vengono colpiti in maniera diversa la crisi diventa così profonda e così contagiosa che arriva fino anche agli stati occidentali allarmando quindi il fondo monetario internazionale di cui abbiamo parlato anche in un nostro video che ha iniziato a dare sussidi e veri e propri salvataggi a vari stati per evitare che andassero in default fortunatamente però non dura troppo questa crisi in breve tempo le tigre siatiche forte nella grande crescita avuta in precedenza e anche del fatto che in tutto ciò non si erano praticamente indebitate riescono in poco tempo a ricominciare a crescere ugualmente e velocemente raggiungendo però poi anche loro il loro stato di plateau diventando infatti grandissime economie come quelle che sono oggi questa storia è veramente interessante se avete mai fatto un viaggio a Singapore, Hong Kong, in Corea del Sud come ho fatto io è ancora più interessante per capire un po' la realtà che andate a vedere fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se conoscevate questa storia se ci sono altri dettagli che conoscete e ci vediamo con il prossimo video ricordatevi di iscrivervi al canale e di guardare tutte quante le informazioni in descrizione se questo video ti è piaciuto segui il canale di Investiamo lascia un like e scrivici un commento per fare domande o dirci la tua ah e siamo anche su Instagram seguici ci vediamo al prossimo video